La Regione Marche ha più volte sollecitato la rapida nomina del Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Lo ha dichiarato in una nota l'assessore Angelo Sciapichetti, che ha respinto al mittente le accuse mosse all'ente, che rappresenta di aver voluto perdere tempo dimostrando ancora una volta di non avere a cuore le esigenze del territorio montano. Il Parco dei Sibillini ha la necessità urgente di avere una guida certa e stabile. Non fosse altro perché gran parte della rinascita socio-economica dell'area devastata dal sisma deve vedere il Parco tra i veri e più importanti protagonisti, ha dichiarato appunto l'assessore Sciapichetti. Ad oggi, dopo il Parco, la Regione Marche è la prima ad essere danneggiata dal ritardo di una decisione che non spetta alle Marche ma al Ministero. Va chiarito che ad oggi tutto quello che era nelle sue possibilità la Regione l'ha fatto e senza alcun ritardo e continuerà nei prossimi giorni a dare il proprio contributo costruttivo, se e quando richiesto, al fine di restituire la piena operatività al Parco stesso nel più breve tempo possibile.